ebbene si ragazzi stiamo nell'officina mia come possiamo vedere qui abbiamo un piccione uscito da sotto la maniera ma adesso è bruttissimo non si capisce dove viene? ciao piccione ciao piccione sei bruttissimo ma dove ci chiamo sul piccione, dove lo sono portato io? perchè vedi com'è stato tutto quello che mi sa ehi, ti devo vedere, perchè mi ha avuto ciao piccione è una piccione è una piccione è una piccione è una piccione